Ancora oggi vi vogliamo dare un altro elemento per la discussione, il consorzio di bonifica dell'Arneo e queste cartelle che stanno arrivando nelle nostre abitazioni. Voi riputate che sia giusto oppure no? Il governatore Emiliano ha fatto sapere che questa tassa bisogna pagarla. Intanto guardate queste immagini di Ivano Rolli che descrivono la situazione di uno dei fiumi, chiamiamolo così, principale della nostra provincia, il canale reale. A questo poi bisogna aggiungere l'inciviltà di tanta gente che butta i rifiuti nelle campagne e capite che la situazione è davvero drammatica. di un ciasco stile o c'è con i giamaicani, dimmi e dite due dei cassa pieni. Se non esce e rimanere le radici che tieni, rispetto ai furibili dei paesi lontani, se non esce e rimanere le due dei cassa pieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini dell'omono cittadini, radicati all'inizabito con i greci e bizantini, uniti a su stile o c'è con i giamaicani, dimmi e dite due dei cassa pieni. E io delusa lento e qua non puo non parlo il dialetto, e non vede filo no, che l'italiano non lo sa c'ho, che se mi metto con rifletto parlo lo giamaicano uscito, perché l'importante è che sei un po' di tutto, anche se è tutto, abbiate me la butto, ma se una cosa mi interessa sono capace, pure mai visto, siete qui tu che io faccio, ma mi metto, vai faccio c'è il posto, perché tu penserei io, che ha deciso del mio stesso, che è la vera cultura, e come sai vivere, come si testo, ma sempre se ci fanno, la vita è dura, è meglio sai amare, pure quando ti pare che è impossibile. Me la ripendo, la te ne uscita con il cuore, la cultura mia rappresenta quello che è stato e che avvenire, in giusto il mondo, non tene più il valore, ci parla di diverse, di diverse, di colore, te ne hanno tutto pure la voglia di amare, così che tanta gente faccio modo di stare a gire, te ne hanno tutto pure le ricche per sentire, ci piace e che dai youtube per i torti, che stai a sopire, e che l'hanno pure la terra a te su tali piedi, se cattano tutto qui gioco a cui ti e ci tieni, ne dispiace per tutto chi giocano e stagliati, ma stiamo ancora qua e dei quali unnelli mu masciuti. Se non te scegli mai delle radici catini, rispetti pure un video dei paesi lontani, se non te scegli mai dei due segalieni, da chiù valora la cultura cateni, si mu salentini dell'un mondo cittadini, radicati all'inestati con i greci e tutta l'inestati. Grazie 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 Grazie